Potete risparmiare tantissimi soldi sui pacchetti, sulle ricariche del portafoglio, sui giochi di tutte le piattaforme del gioco e su altri servizi sempre scontati acquistando su Instant Gaming tramite il mio link nella descrizione, come ad esempio una ricarica del portafoglio di Playstation da 75€ al prezzo di 60,19€ col 20% di sconto. Bella a tutti archetti sin Orcuverde, oggi è martedì 13 dicembre e finalmente come ogni anno l'atmosfera natalizia è arrivata nella frontiera. È tornata la neve ad imbiancare tutta la frontiera e sono stati rilasciati tutti i contenuti di Natale. Riguardo i contenuti di Natale, da oggi fino al 2 gennaio 2023 è disponibile per l'acquisto la variante Krampus, per la doppietta a canna liscia e gli altri contenuti natalizi che sono gli stessi identici che sono stati rilasciati l'anno scorso in questo periodo, non uno di più e non uno di meno. Sì che se volete guardare tutti i contenuti di Natale rilasciati oggi nella frontiera, vi invito ad andare a guardare il video che ho caricato l'anno scorso riguardo questi contenuti festivi. Inoltre vi ricordo che giovedì 15 dicembre, per cui tra due giorni verranno rilasciate anche le chiamate alle armi festive. Vi ricordo anche che nei bonus di questo evento mensile i giocatori che effettueranno l'accesso a Red Dead Online tra il 13 dicembre, quindi da oggi al 26 dicembre, riceveranno come ricompensa la variante invernale dell'Evans a ripetizione. Oltre a tutti gli altri bonus, sconti e vantaggi che vi ho mostrato proprio nel video caricato riguardo questo evento, che se non avete ancora visto vi invito ad andarlo a guardare. Lascerò anche il link di quel video nella descrizione di questo video. Quirine Torchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete il video per supportarmi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per diventare un orchetto. Seguitemi su Twitch, su Instagram e su tutti gli altri social, troverete tutti i link nella descrizione. In più, vi invito a dare un'occhiata alla playlist dedicata ai glitch di Red Dead, perché lì potrete vedere tutti i glitch presenti nella frontiera senza doverli andare a cercare nei video caricati, quindi nella maniera più comoda e veloce. E da Orkuverde tutto noi ci vediamo al prossimo video, bella!